Proprio stamattina c'è stata la ripresa dei lavori, è stato consegnato da parte del RUP sia alla ditta che anche con la partecipazione del contominio e all'interno di questo consegno dei lavori c'è anche l'impegno da parte della ditta esecutrice di completare i lavori e di consegnarli entro il 31 ottobre prossimo venturo. C'è un parco agricolo didattico al Vomero che attende di essere ultimato ed aperto finalmente al pubblico. Si trova nell'area dell'ex gasometro tra Viale Raffaello e Salita Cacciottoli e dopo diversi anni di ritardi accumulati fra progetti varianti e problematiche che hanno coinvolto anche gli edifici circostanti, stamattina sono ricominciati i lavori di riqualificazione per giungere finalmente alla conclusione. Al centro del progetto la cura è il miglioramento del paesaggio arborio esistente in un'ottica di salvaguardia e valorizzazione degli oltre mille esemplari di piante autoctone presenti. Una riserva agricola molto interessante nell'area del Vomero. All'interno ci stanno delle essenze arboree autoctone, sono facilmente riconoscibili delle aree agricole costituite da agrumi, anche da alberi di noci, da nespoli e sono riportate anche alcune essenze dei nocelletti per avere prove. Però è interessante proprio nel suo percorso perché c'è un ritorno all'interno di uno spazio verde da quella che è l'urbanizzazione rappresentata dall'area del Vomero.